musica 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 eeeh ciao sono fiori un appassionatissimissimissimo eeeh a me pure grande viaggio nel cosmo musica musica caro ti scrivo questa lettera per invitarti al festival buonasera ai ma perchè dici ai eeeh ah comunque è ya 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 musica 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 eeeh principessa è libera o no i miei vari io non segui voi comunque vi volevo presentare due ospiti molto speciali davvero e chi sono? o eeeh oh eeeh ms amici bombi comunque mentre fate conoscenza io vado sull'alis scusa maعم siamo nel bel mezzo di una festa e tu vai sull'alis way Mario Eh comunque Io sono E io sono Io invece Sono l'unico E inimitabile Eeeh Aspetta Chi è Cosa? Mi state dicendo che non mi conoscete Ma come bambi? Non te lo ricordi? E' quello che vende E' chi? Ehi aspettate un attimo Ma io non ho mai venduto E invece a me conoscete Brutto porco Lascia stare subito la principessa Mai E' mia E' solo mia Ti devi fare un'ultravita Bentornati All'Explengegramma 64 Vabbè La cosa Ha una ultra importanza Io sono il padre Io sono il padre Aspetta Nooo Oh no Ma questa voce Deve essere la principessa Pitch Valla sta valla Oh oh Eccomi è arrivata al suo castello Principessa Dove sei? Choci E' una sporta Cosa Dove sei? Il padre